Grattacapi mattutini. Mi alzo assai per tempo. Oggi lunga è la via che mi attende. Penso con sospetto quale sarà stata la mia sorte notturna, tra coltri non immacolate. La fauna intima del paese mi appare adombrata nei poetici appellativi scientifici. Il pulex irritans saltellante, il cimiex lectularius, piatto, rosso dopo il pasto, ributtante, che passa la giornata a digerire e si mette in caccia appena notte. Nessun ostacolo l'arresta e non ha paura, guidato forse da un odorato pari alla sua puzza, di lasciarsi cadere dal soffitto per venire nei posti preferiti ad infiggere il suo rostro acuto, cosparso di umore e salivare irritante. Mi toccavo il capo quasi dovessi trovarvi il pediculus cervicalis, l'amabile bestiolina che gli ottentotti, gli aleuziani e i negri della cafreria considerano un regalo e che si offrono gentilmente null'altro. Sebbene, poi, non avrei dovuto lamentarmene troppo. Non sono ancora duecento anni e molti la credevano aperitiva e febrifuga. Appena fuori di soveria si sale in una valletta, tutta verde, piena d'acque che fecondano un terreno ricco, tutta gorgheggiare d'uccelletti che nell'alba salutano il sole che sta per brillare. A 940 metri raggiungo il culmine e comincio a calare nella valle del Savuto, valle selvaggia che d'un tratto mi riporta, per così dire, nell'alta Lombardia, anzi in qualche braccio laterale della valtellina. Le rocce sono schisti micacei grigi, argentei o rossicci, luccicanti nell'umidore come specchietti tra le querce e i faggi. Oltrepasso una carrozza, la prima che incontro da pizzo. Giù nel fondo valle, a un gomito della strada, nascosto tra gli annosi alberi, ecco un gruppo di sette carabinieri intorno a un brigadiere che impartisce ordini. Diavolo, c'è qualche cosa? Mi fermo e interrogo. Mi rispondono che sono matto, che il paese è sicurissimo. Forse che lei viaggia armato? Certo, rispondo, ho il revolver. Allora avrà anche il relativo porto d'armi? Certo che sì, ce lo faccia vedere. In sostanza, l'individuo più sospetto nei dintorni pare che fossi io stesso, perché subì un interrogatorio in piena regola.